Ci sono grandi rapporti tra l'Abruzzo e il Sudafrica. La comunità italiana presente in Sudafrica è fortemente rappresentata da abruzzesi che contribuiscono alla crescita di quel grande paese. L'ambasciatrice è impegnata anche a stringere e ulteriormente rafforzare queste relazioni a partire dai rapporti con i nostri parchi nazionali che hanno nei confronti del Sudafrica. Il Sudafrica ha mostrato grande interesse per le nostre bellezze naturalistiche, paesaggistiche, la varietà della nostra flora e della nostra fauna. Oggi sono appunto trascorsi 27 anni dalle prime elezioni libere e democratiche occorse in Sudafrica nel 1994. Ho preso questa opportunità di venire a visitare il Presidente della Regione e con l'occasione gli ho voluto fare un omaggio di un libro del nostro primo Presidente. Presidente eletto in maniera libera e democratica, appunto Nelson Mandela. Questa è anche un'opportunità per riallacciare i rapporti che così intensamente si sono susseguiti negli anni tra la Regione Abruzzo e la Repubblica del Sudafrica e che speriamo di poter riavviare e rintensificare dopo questo periodo di buio. L'Abruzzo per noi ha un valore speciale in quanto la più grande presenza italiana in Sudafrica è rappresentata da cittadini provenienti dalla Regione Abruzzo. Quindi i nostri legami sono veramente peculiari e inoltre il Sudafrica possiede, scusate, l'Abruzzo possiede queste bellezze naturali, questi parchi che sono unici nella loro specie con delle specie appunto protette che sono in pericolo, l'orso e il lupo. Per cui per noi è soltanto un onore e un piacere venire a conoscenza di queste realtà naturali e di poter eventualmente stringere dei rapporti con l'ente parchi sudafricano. Quindi con questo auspicio abbiamo appunto voluto fare questa visita. Vero quindi ringraziare ancora una volta il Presidente della Regione per essersi reso disponibile a questo incontro che si svolge proprio nel giorno della nostra ricorrenza, della nostra festa nazionale. Quindi mi fa ancora più particolarmente piacere e sono speranzosa appunto di poter continuare ad allacciare rapporti nel settore della natura e della conservazione e apprezzo il fatto che l'UNESCO abbia recentemente offerto questo riconoscimento molto importante ad uno dei parchi abruzzesi. È senz'altro motivo di orgoglio. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.